Un duro jacuzzi da parte di Tommaso Pellegrino dal tavolo di un convegno sulla Sicignano-Lago Negro a Polla. Il presidente del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha preso spunto dalla situazione della tratta ferroviaria per illustrare come ancora una volta il Vallo di Diano non sappia difendere il proprio territorio. Tommaso Pellegrino non si è mai proposto alla candidatura al Senato o al Parlamento, ma qualche possibilità poteva esserci. Il PD valdianese però, pur di fronte a continue rassicurazioni di unione, non ha fatto gioco di squadra e durante il convegno di ieri mattina Pellegrino ha portato avanti dichiarazioni dure da leggere in chiave politica. Dobbiamo parlare, ha detto con serafica calma, di tirionfo della mediocrità di un territorio senza rappresentanze e senza unità. Quando si è trattato di essere uniti per eleggere un consigliere provinciale lo è stato, così come è stato fatto, ha aggiunto, nel momento in cui abbiamo deciso sulla conferenza dei sindaci per quanto riguarda l'ASL. Il consigliere provinciale per il Vallo di Diano è Paolo Imparato, il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL e Sergio Annunziata e tra il presidente del Parco e questi ultimi due nella scelta della candidatura, con appoggio ad Alfieri, ci sono state delle fratture davvero importanti. Liti telefoniche non solo, al di là di smentite di facciate, le scintille tra i vari amministratori del PD sono comprovate e conclamate. Tommaso Pellegrino ha poi aggiunto, oltre a parlare della sicignano-lago negro di litigiosità politica. Ora ci troviamo, senza una rappresentanza territoriale, per litigi e invidi varie. I mediocri, per essere i primi della classe, distruggono tutto, così da risultare loro i primi della classe, ma una classe di mediocri. Ha concluso. L'intervento è stato a margine della presentazione del libro di Salvatore Passavanti, intitolato Sicignano-lago negro, storia di una ferrovia, a cura di Giuseppe Manzione, organizzato a Polla con il Comune, guidato da Rocco Giuliano in prima linea. Tra i vari interventi da sottolineare un'altra accusa, ma alle ferrovie dello Stato, da parte del consigliere comunale Giuseppe Curcio. Ci troviamo in una linea ferroviaria sospesa, ma di fatto chiusa, una risorsa per la comunità che è diventato un peso. Basti pensare ai rovi e all'incure lungo la tratta ferroviaria, senza che l'azienda si occupi di tutto e ai canali sottostanti mai puliti, che mettono a rischio i terreni limitrofi.